Una scuola modello british al liceo quadri di Vicenza si insegna un inglese che non ha nulla da invidiare i giovani studenti sudditi di sua maestà, tanto che se ne sono accorti anche oltremanica. Il Cambridge English Language Assessment ha individuato nell'istituto vicentino, tra oltre 90 partecipanti a livello nazionale, la miglior scuola secondaria per lo studio della lingua inglese. Un percorso quello della certificazione esterna dell'insegnamento che parte da lontano. Da tempo abbiamo scelto la logica della certificazione esterna della qualità degli apprendimenti e in questa direzione da molti anni già pratichiamo la diffusione della certificazione delle competenze di informatica. Da qualche anno stiamo lavorando invece per promuovere in maniera massiccia la certificazione della lingua inglese. Anche questa ci sembra una competenza chiave della cittadinanza europea di domani. È stata una bellissima esperienza e in questo modo abbiamo potuto verificare il lavoro del nostro dipartimento, abbiamo avuto un feedback dall'esterno ed è una cosa importantissima di questi giorni. Abbiamo visto che lavoriamo molto bene, ce l'hanno certificato da Cambridge. I nostri ragazzi sono assolutamente entusiasti di questa esperienza. Soddisfazione per un istituto impostato per sua natura, teoricamente più per le materie scientifiche, un modello di approccio che il caso di dirlo fa scuola. Noi già facciamo con tanti istituti in zona, in tutta la provincia di Vicenza, però questa scuola è stata la scuola che è più ammirata di aumentare e aumentare il livello. Io penso però che le altre scuole stanno seguendo e cercando di raggiungere gli stessi obiettivi. Questo è assolutamente un punto di partenza, adesso lavoriamo in sinergia, con un bel lavoro di equip e con il lavoro della London School il pomeriggio vediamo che le cose funzionano molto bene.